Dal portale in vetro è possibile scorgere la grande statua dell'Ercole Epitrapezios, rivenuta ad Alba Fucens ed ora posta a dominare il salone d'entrata del Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo a Chieti. Il museo è allestito all'interno della villa del Barone Frigeri, donata alla città all'inizio del secolo scorso ed ora più nota con il termine di villa comunale. Sicuramente è la più importante raccolta archeologica regionale e documenta un periodo storico lungo circa un millennio, dalle popolazioni pereromane, simboleggiate dall'enigmatico guerriero di Capestrano del VI secolo a.C. fino alla tarda età imperiale. È un buon punto di partenza per ripercorrere al contrario la Tiburtina Valeria, la grande strada romana che dai primi decenni della nostra era sotto l'imperatore Claudio collegava Roma con Teate e con l'Adriatico. Prima in età repubblicana la strada si fermava a Corfinium inaugurata nel 286 a.C. dal console Marco Valerio Massimo Potito e prima ancora agli albori di Roma nel 450 a.C. la strada collegava l'urbe con Tibur, l'odierna Tiboli. È mattina inoltrata, poche persone passano per il largo Cianfarani, l'archeologo che nel 1959 inaugurò il museo insieme al presidente Gronchi. E nessuno fa caso a due personaggi con zaino e racchette, pronti, un po' emozionati e un po' spaventati, a risalire la Tiburtina Valeria per oltre 220 km fino a Roma. Si parte in due, Fabrizio e Pino, altri si aggiungeranno lungo il percorso. Il cammino parte da Chieti, città preromana, marrucina, da cui il nome Teate Marrucinorum, versione latina di Tauta Maruca. La città era già fiorente nel II secolo a.C., ma crebbe la sua importanza quando divenne municipio romano, dominando una vasta zona compresa tra la Val Pescara e la costa Adriatica. Da qui la necessità del collegamento stradale con Roma. Il tratto successivo della Tiburtina Valeria era, di fatto, un raccordo cittadino che collegava il centro di Teate con il suo porto Ostia-Aterni, dal nome del fiume Aternum, antico porticciolo di pescatori conteso dai Vestini e dei Marrucini, che rappresenta il nucleo originario dell'odierna Pescara. Secondo un'altra storia, molto diffusa, anche se di fantasia, riportata da Girolamo Nicolino, la nascita della città risalirebbe all'11 maggio del 1181 a.C., non è nota l'ora, da parte di emigrati greci collegati ad Achille. In onore della Teateti, madre di Achille, la città avrebbe poi preso il nome di Teate. Dalla villa comunale di Chieti, iniziando il cammino, si può dominare con lo sguardo la Val Pescara, dalla Maiella al mare, lasciandosi alle spalle i contrafforti della Civitella, già Acropoli-Marrucina, e poi sede del grande affiteatro romano. Scendendo, si esce presto dalla città, si prosegue sul tracciato della provinciale strada per popoli, ma si possono fare anche diverse varianti in un reticolo di strade, una volta funzionali ad una agricoltura periurbana, ora semplicemente di collegamento di alcune ville e casali isolati. L'uscita dalla città di Chieti è segnata dalla chiesa di Santa Maria Calvona, piccola e un po' anonima cappella settecentesca, costruita sull'area di una necropoli romana e in particolare sul mausoleo a forma di tempietto tetrastilo di Lucius Storax, di età claudiana, i cui resti sono ora conservati al Museo Cittadino. Il monumento, per chi arriva da Roma, segnava l'entrata nell'area urbana ed era posto a Tribus Callis, ossia su un tricale alla confluenza di tre strade maestre, nei pressi della necropoli sud di Teate. Ora la chiesetta è soverchiata dal Teate Center, pollo direzionale, amministrativo e commerciale, mai decollato veramente. Per una città che ha il varicentro orientato nella parte opposta, verso Pescara, la maggior parte dei terreni ormai non è più coltivata. Macchie, piccole alberate, olivi semiabbandonati. Lontano, dal lato sinistro, sulle pendici di Colle Marcone o di Colle Sant'Antonio, si possono ancora vedere piccoli appezzamenti coltivati, oliveti, piccoli vigneti familiari, orti. Dall'alto destro si scorge, invece, dall'alto, la Val Pescara, una delle zone più cementificate d'Abruzzo, insieme alla costa, con il suo simbolo, Megalò, il centro commerciale che, con i suoi negozi, cinema e ristoranti, a seconda dei punti di vista, ha distrutto o rilanciato la vita cittadina. Dopo alcuni chilometri la strada si mette in Via Terno, nei pressi della località Brecciarola. Di fatto, si entra nel tracciato principale della ex strada statale 5 Tiburtina, iniziando una sovrapposizione con il percorso della consolare che, con varianti e qualche incertezza, ci accompagnerà fino a Roma. La statale è stata istituita nel 1928 ed è lunga circa 216 chilometri. Dal 1998 la competenza è passata dall'ANAS alle regioni Lazio ed Abruzzo. Camminando lungo la statale il traffico diventa caotico e il paesaggio degradato. Solo alcuni anni fa si parlava di zona industriale. Ora, invece, si tratta di capannoni commerciali, piccole attività artigianali, tanti ristoranti e locali di seconda generazione, che, evolvendo, guadagnano in kitsch quello che perdono della qualità dei servizi e dei menù. Lasciamo chieti ed entriamo nel comune di Manoppello. Sulla sinistra, su un colle allungato, si scorge la Basilica di Santa Maria Rabona, che i monaci cistercensi costruirono nel XII secolo, sfruttando l'area ed i materiali di un vecchio tempio romano, pare dedicato alla Bona Dea, da cui l'attuale denominazione. Manoppello è cittadina di santuari. Incrociamo segnalazioni, altre le incontreremo nei giorni successivi, che richiamano al cammino del volto santo un lungo percorso spirituale, in parte parallelo ed in parte sovrapposto al nostro, ma più interno, che in 12 tappe e circa 300 chilometri unisce la città del Vaticano con la cittadina abruzzese. Solo dopo diversi chilometri si entra in un'area più verde, ma i campi coltivati sono oradi, piccoli seminativi e qualche oliveto a ricordare antiche culture ed eccellenze gastronomiche, ora più decantate nelle sagre estive che prodotte davvero ed organizzate commercialmente. Le aree verdi sono soprattutto incolti a macchia, una rinaturalizzazione non governata che crea molti problemi, anche di natura idrogeologica. La strada statale di Burtina negli anni ha subito diversi interventi, molte curve sono state tagliate, abbandonando il vecchio percorso al degrado e alla lenta deimpermeabilizzazione. Nel tardo pomeriggio, dopo una prima tappa del tutto tranquilla di circa 20 chilometri, si arriva a Scafa, prima località di pernottamento. Scafa era un antico borgo del comune di San Valentino, nell'area della confluenza tra il fiume Pescara e il torrente Lavino. Diventa comune nel dopoguerra e deve il suo sviluppo alle cave e al cemento, piccolo simbolo del boom economico italiano.